In questa lezione ascolterete tre conversazioni telefoniche. Conversazione telefonica. Telefongespräch. In questa prima conversazione il signor Hartmann chiama al telefono il signor Jones e risponde alla sua segretaria. La segretaria. Guten Tag. Könnte ich bitte mit Herrn Jones sprechen? Posso io per favore con il signor Jones parlare? Riasculta e ripeti. Könnte ich bitte mit Herrn Jones sprechen? Posso io per favore con il signor Jones parlare? Guten Tag. Bleiben Sie bitte am Apparat. Rimanga lei per favore all'apparecchio. Riasculta e ripeti. Bleiben Sie bitte am Apparat. Rimanga lei per favore all'apparecchio. Io collego lei per dire le passo il signor Jones. Riasculta e ripeti. Io collego lei per dire le passo il signor Jones. light, dispiaciuto, dispiace, es tut mia light, esso a me dispiace besetsan, occupare, besets, occupato, es ist besets, esso è occupato il signor Jones è occupato, Herren Jones ist besets Riasculta e ripeti, es tut mia light, esso a me dispiace Können si speta nochmal anrufen? Potere, können, può lei, können si, più tardi, speta, tardi, spett, più tardi, speta Nochmal, ancora una volta, oppure, un'altra volta Anrufan, chiamare Può lei, più tardi, un'altra volta chiamare? Riasculta e ripeti Können si speta nochmal anrufen? Nein, kann ich nicht, tut mia light No, posso io non, a me dispiace Per dire, no, non posso, mi dispiace Riasculta e ripeti Nein, kann ich nicht, tut mia light Nein Hinterlassen Lasciare Hinterlassen Un messaggio Eine Nachricht Messaggio Nachricht Può lei a lui un messaggio Lasciare Können si im eine Nachricht Hinterlassen? Riasculta e ripeti Können si im eine Nachricht Hinterlassen? Ja, natürlich Sagen si im, dass ich mich über unser Treffen gefreut haben Sagen Dire Dica lei a lui Sagen si im Che io a me, dass ich mich Incontrare Incontrarsi Treffen Ma vuol dire anche Incontro Il nostro incontro Unser Treffen Lieto Contento Gefreut Sagen si im, dass ich mich über unser Treffen gefreut haben Riasculta e ripeti Sagen si im, dass ich mich über unser Treffen gefreut haben Ich werde so bald wie möglich wiederkommen 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 Vuol dire Ritornare Noi sappiamo che il verbo Weden Si usa per formare il futuro Quindi se dico Ich werde wiederkommen Vuol dire Io ritornerò So bald Al più presto Quanto prima Möglich Possibile So bald wie möglich Quanto prima Come possibile Ich werde so bald wie möglich wiederkommen Io quanto prima Io quanto prima come possibile Ritornerò Per dire Mi farò risentire al più presto Riascolta e ripeti Ich werde so bald wie möglich wiederkommen Wird gemacht Fare Machen Il participio passato di fare Fatto Gemacht Lo farò Sarà fatto Wird gemacht Wird gemacht Er wird sich freuen Das zu hören Auf Wiederhören Er wird sich freuen Lui sarà felice Das zu hören Questo A ascoltare Lui sarà felice Di ascoltare Questo Auf Wiederhören A riascoltarci presto Riascolta E ripeti Er wird sich freuen Das zu hören Auf Wiederhören In questa conversazione telefonica Il signor Peter Büchner Chiama il signor Otto Schwab Per sbaglio Schwab Entschuldigung Wie heißen Sie? Otto Schwab Sie sind nicht Herr Sprenger? Nein Mein Name ist Schwab Oh Entschuldigen Sie bitte Ich habe eine falsche Nummer Auf Wiederhören Ascoltate la traducione Schwab Entschuldigung Mi scusi Wie heißen Sie? Come si chiamale? Otto Schwab Sie sind nicht Herr Sprenger? Siete voi non il signor Sprenga? Per dire Non siete il signor Sprenga? Nein, mein Name ist Schwab No, il mio nome è Schwab Oh, entschuldigen Sie bitte Oh, mi scusi lei per favore Ich habe eine falsche Nummer Io ho un numero falso Un numero sbagliato Terza conversazione Dritte Gespräch In questa conversazione telefonica Klaus, telefona a Brigitte Quando rispondiamo al telefono In italiano noi diciamo Pronto chi è o semplicemente pronto In tedesco si dice Wer ist am Apparat? Chi è all'apparecchio? Wer ist am Apparat? Chi è all'apparecchio? Bist du es, Klaus? Sei tu esso, Klaus? Ja, ich bin es Guten Tag, Brigitte Si, io sono esso Buongiorno, Brigitte Guten Tag, Klaus Io sono anche solo Per dire Anche io sono solo Bist du allein? Wo ist deine Frau? Und wo sind die Kinder? Sei da solo Dov'è tua moglie? E dove sono i tuoi bambini? Meine Frau ist in Frankfurt Mia moglie è a Frankfurt Und die Kinder sind am Mea E i bambini Sono al mare Herlich Und wann seid ihr wieder alle zu Hause? Splendido E quando siete voi Di nuovo Tutti a casa? Im Oktober A ottobre Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.